Le mie vacanze iniziano semplicemente così La buonanotte, a domani La buonanotte, a domani La buonanotte, a domani La buonanotte, a domani Oggi siamo tornati, io non ho proprio fatto niente Oggi è il 12 di luglio, è mezzogiorno e un quarto a momenti Stavo navigando sul web per cercare qualche possibile scheda video Però purtroppo mi sa che non arriverà in tempo Stavo andando su Facebook e c'è il mio cugino che è in bagno Mi sta scrivendo, mi sta prendendo per il culo Ora ve lo faccio vedere Che cazzo sta scrivendo? Non lo so In cucina What the fuck Lo rischiamo what the fuck Che tipo Vabbè ragazzi Comunque noi ci aggiorniamo più tardi Perché Perché sì Perché la domenica mi porti sempre a sondra Niente Oggi è mercoledì Domenica ripartiamo Purtroppo queste sono le vacanze Ci vediamo dopo Allora ragazzi Aggiornamento per questo vlog Che sta andando avanti nel tempo Volevo dirvi che sta andando abbastanza bene Sto ancora Stiamo ancora finendo Sto per ora Perché il mio cugino ancora non è arrivato Sto continuando appunto la live Sono tipo le undici e mezza di sera Sì Inutile che ve lo chiedete Sì Sono in bagno Perché Perché Comunque Uno youtuber gamer Deve andare in bagno Ed è una cosa normale È un po' dura Lo ammetto Niente dai Ci aggiorniamo Ci aggiorniamo in queste ultime ore di live Ecco Ragazzi Buongiorno Buongiorno ragazzi Siamo Tornati ovviamente qui Con il nostro vlog Stiamo continuando sempre Il vlog Ragazzi E niente Siamo Qui Come potete vedere Sono seduto per terra Perché Stiamo Quasi Per finire la live Mancano ancora 25 minuti Quello Quello è andato in coma È andato proprio in coma Va bene Mi ha lasciato da solo a me E niente Siamo ancora in live Ragazzi Fate un saluto Fate un saluto A youtube Scrivete Fate un saluto a youtube Guardate ragazzi Qua c'è tutta la chat Ragazzi Fate un saluto Iscrivetevi al mio canale E merdose Tutti quanti ragazzi Da là c'è abbiamo l'altro schermo Che sta inquadrando Il cornuto La webcam Là c'è la webcam Ragazzi Sta procedendo È proceduto Vabbè È andata bene questa live Non si può dire è proceduto Però è andata bene questa live Sta andando bene Soprattutto Nelle ultime ore Siamo 10 spettatori Per ora Salgono 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 Però Diciamo che È andata davvero davvero bene Salutami C'è Donato che vorrà essere salutato Ciao Donatino Ciao youtube Ecco che salutano Iscrivetevi al mio canale Guardate Guardate Sta andando via Va bene ragazzi Niente Noi ci vediamo tra poco Quando Quando staremo appunto Per finire la live Ci vediamo dopo Il nostro viaggio Finisce qui Eh già Eh già Finisce Domani parti È triste anche mio cugino Non so manco se si vedono Tipo Disegnini Però sono fighi Della terza media Che manco vanno più Però come pantalone It's good No? It's good It's good Domani si parte Domani si parte Che palle Non voglio partire Però bisogna partire Eh già Eh già Non voglio partire Non voglio partire Non voglio partire Non voglio partire Anche It's good Non voglio partire Ma Non voglio partire Un'altra Vabbè ragazzi siamo tornati nuovamente nella nostra amata casa E niente siamo tornati nuovamente nel nostro ufficio Perché ormai è anche vostro Ma soprattutto mio ma anche vostro Ma soprattutto mio E niente siamo come detto tornati Vacanza finita molto 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 corta Cioè io mi ricordo ieri che sono partito Che mi sono divertito Sono già qua Purtroppo ragazzi quando le vacanze durano poco Non è mai buon segno Anzi è brutta cosa ecco Le vacanze devono durare per sempre No per sempre no però una quindicina di giorni sarebbe stato l'ideale Niente ragazzi io comunque spero che questo blog e tutto il resto vi sia piaciuto In tal caso invito a lasciare un pollicione in su qua sotto Commentate dicendomi se cosa vi è piaciuto di più Se ovviamente vi è piaciuto questo blog e video E niente noi ovviamente ci vediamo molto molto presto nelle settimane In queste settimane comunque mi raccomando live video a go go sul canale Mi raccomando non ve lo perdete Io spero di ancora prendere sta maletta 1060 che non ho ancora preso E niente io spero che vi sia piaciuto E noi ci vediamo in un prossimo blog Ciao Ciao Ciao